Il futuro di Irpini Ambiente è ancora pieno di incognite, non solo perché piuttosto a sorpresa lascia l'amministratore unico della società Matteo Sperandeo per diventare segretario generale del comune di Crotone. Il presidente Biancardi fa sapere che non ha ostacolato la scelta e che nei prossimi giorni deciderà le azioni conseguenziali per indicare il nuovo amministratore, ma quel che è certo è che Sperandeo abbandona la nave in un momento molto delicato. Con il piano industriale del lato rifiuti praticamente pronto, il futuro della società di via Cannaviello potrebbe decidersi nei prossimi mesi con la procedura di assegnazione della gestione del ciclo integrato e il presidente del lato tropeano assicura che si sta lavorando per mantenere la gestione pubblica. Sicuramente il servizio dovrà andare avanti e dovrà essere ulteriormente migliorato. Noi abbiamo avuto indicazione da parte dei sindaci di un affidamento per una gestione pubblica, stiamo lavorando in questa direzione. Dopodiché, una volta che noi avremo adottato il piano e questo sarà brevissimo, andremo in assemblea, vedremo le indicazioni, suggerimenti che dirà l'assemblea dei sindaci e ci muoveremo in quella direzione. Ma è un traguardo che presenta ancora tante incognite e suscita più di una perplessità da parte del mondo sindacale. L'affidamento, lo stiamo dicendo da tempo, deve essere fatto a una società pubblica, quindi crediamo che il pieno ambiente se non è requisito, ma l'importante è che ci muoviamo sulla gestione pubblica di tutto il ciclo dei rifiuti.